Non siamo più gli stessi, siamo invecchiati e non abbiamo più quello spirito per essere divertenti come allora e in più dobbiamo pagare gli alimenti alle nostre ex e per questo forse che non sono più così spiritoso confessa ironicamente Terry Gilliam, il più splendidamente visionario dei registi contemporanei che con la sua particolare visione del mondo ha fatto scuola a due generazioni parlando in una fullatissima Tao Class durante il festival di Taormina e ricordando il periodo dei Monty Park, quando ci divertivamo a lavorare insieme perché alla BBC ci avevano dato carta bianca e tutta la libertà di espressione che volevamo e dopo i programmi televisivi ci offrirono di fare dei film con la stessa libertà e non era cosa da poco, visto che registi e autori dovevano sottostare ad infinite rognose pastoie burocratiche